Ciao amici questo è il mio blog, uno spazio per voi che siate celiaci, intolleranti, sensibili al glutine, insomma uno spazio veramente aperto a tutti, il vostro contenitore. Dimenticavo, questo sono io, lo chef gluten free perché anch'io proprio come voi sono celiaco. Essere celiaci però non vuol dire essere malati, a me piace definirci diversamente gourmet perché la celiachia sicuramente è una condizione di vita ma prima di tutto una opportunità di crescita personale e professionale, guardate un po' mello. Qui troverete un mondo tutto gluten free, assolutamente incontaminato però, con ricette d'artista, suggerimenti, informazioni e consigli da scelta, un mondo dedicato anche ai più vicini e un po' di arte anche, food design. Dimenticavo, corsi, show cooking e eventi. Insomma, uno spazio tutto per voi. Ci saranno i due ingredienti fondamentali per divertirci insieme. Tanta passione e soprattutto creatività. perché senza glutine non vuol dire senza gusto e senza bellezza. Quindi non perdete tempo ad entrare in questo nuovo mondo, il mio blog e la mia pagina facebook. Io sono qui, vi aspetto! Al prossimo episodio Grazie Grazie a tutti.